Ciao a tutti gli utenti del web, ciao a tutti da Fissatichessimo Weblog, grandissima Rosalita Sì, grandissima così, tutti dal web, sono da tutti i web Sì, 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 tu ci sei su internet, è vero? Io su internet? Ci sono su internet, io Che sei su internet? Social, sì, su Facebook no, su Facebook no, su Facebook no, da nessuna parte Ah, io ci sono da nessuna parte, però mi vedete? E quindi ci incontriamo per strada? Grandissima Rosalita, volevo vogliere un'occasione per salutare anche il tuo magico papà Ok Lo salutiamo? Ah, io devo salutare il tuo padre dal professor Sì Ok, ciao papà, io sto bene, come vedi, sto con lui, tutto a posto Ciao Ariano, io ti do un grandissimo saluto, sei un grande, un grande ruolo, pazzo Ok, sei forte papà Sei forte, sei forte, grande, grande Rosalita, ciao Ciao, ciao